Il motivo per cui tornerei subito qui, tra una settimana anche meno, sono le persone. Sono Angela, Alberto, Renato e tutti quanti. Quindi questo è fondamentalmente per me il motivo che mi farebbe tornare e il motivo principale per cui sono stata benissimo qui, sia qui in teatro sia in foresteria. Ed è bellissimo perché si sente che loro creano con molta semplicità, con molta naturalezza un'atmosfera molto avvolgente, ma che non stringe. Quindi molto calda, molto di protezione, ma con grandissimo... Non lo so, con quel giusto equilibrio che poche persone in realtà riescono a trovare tra vicinanza e lontananza, sani confini, far sentire a casa. E quindi bellissimo per me. Questa è stata la grande rivelazione, insomma, per me di essere qui, di essere qui a fare residenza al Teatro Due Mondi. E a parte, come dire, questo lato più... Cioè, a parte. Dopo questo lato più di cuore, diciamo, è stato preziosissimo avere tutti questi giorni qui per proseguire Luisa. E quindi, sì, è stato estremamente utile perché sennò avrei dovuto cercare un altro luogo e quindi è stato perfetto avere un luogo in cui si sta bene, si lavora bene, si ha il tempo per lavorare ad un progetto che si sta amando molto e c'erano tutte le condizioni perfette.